La condizione fisica va migliorata ancora di più perché nel momento in cui è calata quella siamo andati un po' in difficoltà però noi lo sappiamo che dobbiamo lavorare su questo aspetto anche perché è inutile dirlo e ripetutamente questa squadra è partita in ritardo e quindi ha bisogno tanto di lavorare però nello stesso tempo il campionato non ci aspetta, le partite corrono e quindi bisogna affrontarle domenica dopo domenica M. Panarelli, sul piano psicologico è stato difficile far tornare in campo i ragazzi dopo la sconfitta di domenica e sera? Sì perché è stata una sconfitta che brucia, una sconfitta che è venuta proprio a tempo scaduto per un nostro errore e quindi ripartire e oggi andare in svantaggio però c'è stata una grande reazione perché non era facile e niente c'è questa qualificazione Coppa Italia di Serie C dove magari ci premia sotto l'aspetto anche dell'autostima della fiducia, dell'andare avanti e di avere un risultato positivo oltre che il passaggio del torno Una domanda al volo se può, ci sarà anche Matteo di piazza domenica? Sarà a disposizione Forse è titolare Ma Matteo, sono sette giorni i ragazzi che lavora Matteo Purtroppo c'è stata questa situazione, se la devo dire tutta sono contento che Matteo è rientrato però sono appena sette giorni, sarà a disposizione, vedremo se è impiegarlo spero di no perché vorrà dire che magari il risultato c'è positivo prima del suo ingresso Purtroppo c'è stata questa situazione, vedremo se è impiegarlo